Oggi senza bavaglio si vuole occupare di un soggetto politico, l'onorevole Michele Pelillo, deputato ionico del Partito Democratico. Non è un qualcosa contro Pelillo, ci mancherebbe, ma Pelillo va bacchettato dal punto di vista dialettico. Ma anche nelle puntate a seguire ci occuperemo di altre figure politiche, anche figure istituzionali, aventi a che fare con il territorio ionico. L'onorevole Michele Pelillo è un deputato del PD. Nacque politicamente parlando, illo tempore, parliamo forse di 15-20 anni fa, nacque con l'Asinello, poi diventò Margherita. Per la precisione, volendo fare una cronistoria perfetta, da giovane, da ragazzo, Pelillo era democristiano, faceva parte appunto dei giovani democristiani. Era una figura che destava simpatia, era molto disponibile nei confronti della gente e ricordiamoci che sfidò alla Camera nel Collegio Cento, nel Collegio Borgo, l'allora sindaco, poi Giancarlo Cito, o meglio Giancarlo Cito aveva finito il suo mandato elettorale perché era stato rimosso, si candidò appunto alla Camera e devo dire che Michele Pelillo perse contro Giancarlo Cito ma ebbe un bel risultato elettorale, ebbe un bel seguito e quindi era una figura che piaceva, simpatica. Dopodiché, politicamente parlando, a mio avviso c'è stata una involuzione progressiva da parte di Pelillo relativamente al contatto con l'elettorato. Un Pelillo disponibile che diventa sempre un Pelillo più nervoso, un Pelillo che ha reazioni molto dure con chi non la pensa come lui. Lascio da parte gli scontri personali relativi al rapporto con l'onorevole Pelillo, certe vicende giudiziarie, il fatto che Michele Pelillo letteralmente mi butto fuori da una conferenza stampa del PD, io giornalista buttato fuori quando c'erano altri giornalisti, con la compiacenza di Musillo, ma lasciamo perdere questo aspetto. Pelillo che incomincia ad entrare in urto con gli ambientalisti, ricordiamo gli scontri con Fabio Matacchiera, ricordiamo la vicenda del vapore acqueo, quelle nuvole bianche che fuoriescono dall'Ilva, per lui sono vapore acqueo, ma lasciamo anche questo aspetto, notiamo appunto un comportamento abbastanza arrogante di Pelillo, un comportamento che dimostra quasi in moltissime occasioni, da quando divenne assessore regionale, un Pelillo intollerante nei confronti di chi appunto la pensa diversamente. Non ne parliamo poi, dopo che diventa deputato, la sua supponenza è davvero incredibile, vuoi all'interno del partito, vuoi interno. Quindi chiaramente Pelillo si aliena tutte le simpatie che prima c'erano a Taranto, diventa una figura che risulta antipatico, antipatica questa figura alla collettività, alla cittadinanza. Non so tra la Di Bello e Pelillo chi nell'immaginario collettivo risulti più antipatico al cittadino tarantino. Magari faremo un sondaggio appunto in materia specifico. Andando a fare la cronistoria della vita politica dell'onorevole Michele Pelillo, non dobbiamo dimenticare quella che è la sua pietra tombale politicamente parlando. Mi riferisco all'ospedale San Raffaele alla realizzazione del San Raffaele a Taranto. Una realtà tanto strombazzata dal Pelillo, Pelillo che si vantava di questo San Raffaele, un San Raffaele che a Taranto è miseramente fallito, anzi per la verità non è mai sorto. Si è rivelato una grande bolla di sapone e ovviamente questa bolla di sapone ha anche sgonfiato politicamente Pelillo. Sapete tutti le vicende giudiziarie del San Raffaele. Dunque il mancato San Raffaele a Taranto è stato proprio l'inizio della fine politica di Michele Pelillo. La situazione esplode o meglio implode all'interno del PD in occasione della tornata comunale che si terrà ai primi di giugno. Perché Pelillo impone, forse il termine impone è un termine forte, ma comunque caldeggia vivamente in maniera molto marcata il nome di Walter Baldacconi, direttore di Studio 100 come candidato sindaco. Ovviamente un nome imposto dà fastidio agli altri del PD e si crea il grande casino, chiamiamolo casino tra virgolette, nell'ambito dell'assemblea del PD. Intanto Pelillo nel suo percorso politico cambia parecchi fronti. In un primo tempo Pelillo era con Enrico Letta, poi Pelillo viene folgorato da Renzi, poi incomincia a staccarsi da Renzi e ora sembra vicino a Emiliano. Chissà perché, ma secondo me, questa è una mia valutazione, una mia ipotesi, ci sono problemi per quanto riguarda la ricandidatura di Michele Pelillo quantomeno nella lista bloccata. Pelillo rischia di non essere il capolista quello che praticamente di fatto io voto PD e automaticamente scatta il seggio per il capolista. Allora evidentemente Renzi può non avergli garantito questa ipotesi e Pelillo può, anzi evidentemente si è spostato sull'ala, sul fronte Emiliano. Ma comunque questo passaggio, questo ondeggiare da Letta a Renzi che erano il giorno e la notte, l'alfa e l'omega e poi ora questo avvicinamento a Emiliano non ci fa capire granché di una certa coerenza politica dell'onorevole Michele Pelillo da Taranto. Si consideri poi le fratture che Pelillo ha avuto all'interno del suo partito. Penso all'amore politico, alla creatura Gianni Azzaro che era una creatura di Pelillo e ora il padre Pelillo che politicamente rinnega il figlio Azzaro. Pelillo non gradisce certamente la nascita di questa associazione Liberdem perché erano tutti i peligliani che a un certo punto si staccano da Pelillo e Pelillo nel partito rimane praticamente isolato. Pelillo rimane con gli ex socialisti di Costanzo Carrieri, di Pascarella e quant'altro. Insomma, caro Pelillo, io le dedicherei una bella canzone. Eravamo quattro amici al bar e i quattro amici al bar diminuiscono sempre più fin quando Pelillo non rimarrà solo ed oltre ad essere solo, secondo me, continuando di questo passo, Pelillo penso che forse non ce la farà più neanche a essere rieletto alla Camera perché penso che non verrà messo capolista, si dovrà confrontare con le preferenze e lì marca male caro Michele Pelillo per non considerare poi, per non dimenticare quello scontro che lei ha avuto con Vico, due deputati del PD, Pelillo che attacca brutalmente dal punto di vista politico, evidentemente, caro Pelillo, questa è la sindrome dell'isolamento. Chissà, magari quando non prevedo un grosso futuro politico per lei, secondo me non verrà più rieletto al Parlamento, verrà ricandidato ma non credo che ce la farà e poi ci penserà a queste parole. Magari tutto serve per maturare, per comprendere, per capire anche alla soglia dei 60 anni, soglia alla quale lei, onorevole Pelillo, è arrivato. Auguri, onorevole Pelillo, buona fortuna, come si dice in spagnolo, suerte. È tutto senza bavaglio, senza bavaglio anche nei confronti dell'onorevole Michele Pelillo da Taranto. Senza bavaglio, informazione libera, sempre. Grazie.